salve a tutti amici di battleforgames io sono adello e siamo qui di nuovo su fifa 15 dopo avervi illustrato tutte le nuove funzioni e l'ultimi team di fifa 15 oggi vi voglio far vedere una cosa di cui non abbiamo parlato nel precedente video ovvero il campo si deteriora o no quindi oggi andremo a fare due sfide sulla neve giustamente andiamo facciamo un city celsi così rimaniamo nella barclays faccio questa maglietta qua e celsi questa allora quindi impostazioni di gioco mettiamo esperto inverno notte pioggia dopodiché passiamo alla all'inverno all'inverno ma cosa sto dicendo passiamo alla neve ragazzi scusatemi ok siamo ad un feed piove squadra lasciamo questa va bene lo stesso l'importante vedere se c'è o no questo se questo deterioramento di cui tanto si parla è reale o no bellissima le scena comunque ha già la maletta bagnata l'arbitro sembra ok partiti andiamo come vedete adesso è tutta verde l'erba tutta tutta tranquilla vediamo tra un po' come diventa già dai primi passi si può si può vedere che appena il pallone viene calciato si si alza l'acqua dalle scarpine vai 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 a guero vai a guero vai a guero a me piace un sacco che c'è la licenza ufficiale della barclays che c'è tutto della barclays è come se la guardi in tv è una cosa spettacolare vedete anche quando si fa le scivolate l'acqua l'acqua si dai un po' circola vedete cioè rimane anche il segno per terra della scivolata quindi si deve essere un po' reale questa cosa del deterioramento poi vedremo anche con la neve oh l'arte vola incredibile poi va bene quell'altro vola dietro cos'è rigore rigore si rigore no vabbè dei michelis cosa volete faccio fuori azart così vedete anche rigori oh l'ha sbagliato incredibile ah ragazzi si volevo dirvi un'altra cosa a fine video vedrete dei calci di punizione perché ho fatto anche una partita contro mio fratello e ho fatto due gol su punizione lui uno quindi se a fine video vedrete delle punizioni state tranquilli cioè sono volute cioè non sei io non c'entrano niente con questa squadra perché era barcellona a united e io ho fatto gol con suarez messi e lui con royce quindi vi voglio far vedere anche un po' le punizioni come sono fatte e poi non so se davvero facile far gol su punizione o no comunque io a fifa 14 a parte in allenamento forse non avevo mai fatto una o due in partita qua ne ho già fatte due nella demo quindi non so finisce qua il primo tempo ho fatto anche le maglie gialle per vedere se si sporcano e sembra di sì perché se non ho visto male mi è sembrato di vedere anche delle maglie sporcarsi infatti guardate oscar è un po' sporco dietro e comunque il campo si si sta deteriorando infatti guardate si vedono le zolle un po' in giro torre accelera torre cambia basso spogliato tasto avete visto in mezzo a guero che si è stizzito perché torre non l'aveva passata qui quindi poi ho anche visto altri movimenti tipo quando il portiere fa una parata che la deve in calcio ad angolo si vede sempre un giocatore un difensore comunque un giocatore che va tipo ad abbracciare o gli da un pugno proprio al portiere sul cioè un pugno in senso amichevole pugno contro pugno quindi per dire che anche la cosa dell'emotività c'è a guero mamma mia check poi i portieri un'altra cosa sui portieri non sono cioè quelli difficili le parano però non tutte le parano infatti con Messi ho fatto un gol abbastanza facile e magari adesso ve lo metto qua in cima lo state vedendo da adesso non so se era perché era talmente vicino però la posizione era cioè da lì non puoi prendere il gol sul primo palo guardate torniamo alla nostra partita cosa ne pensate di quel gol lì? scrivetelo nei commenti così ah giusto poi nei commenti mamma mia che stacco scrivetemi tutto nei commenti di cosa ne pensate tutto quanto quello che ritenete giusto dire su questo gioco FIFA 15 che ripeto questa è solo una demo quindi chissà cosa ne uscirà nel gioco finale qua fuori gioco intanto poi notato anche su queste punizioni il computer fa sempre la finta sempre tutte le squadre che ho abbaccato il computer dico il computer fa sempre la finta qua mi fa gol sicuro no c'è arte che para poi sbaglia lui comunque vedete il campo che si sta sempre più deteriorando quindi confermiamo almeno con la pioggia confermiamo questo fatto un altro fuori gioco facciamo dei cambi comunque un'altra cosa quando si infortuniano io non so come si infortuniano perchè viene solo il cerotto davanti magari al giocatore che si è rotto però non esce tipo una cosa ad esempio rottura alla caviglia come negli anni scorsi quindi boh non so se poi la metteranno con la versione ufficiale o cosa però me l'ha ucciso però arte c'è vedete drogba che incita i suoi compagni e arte vedi che si compila rossi compilita con arte vanno sempre vedere molto bello molto bello mi piace questo fifa ah giusto un'altra cosa ah mamma mia che parata incredibile un'altra cosa riguarda i calci d'angolo appena ne ho uno si posso vi faccio vedere una cosa si possono fare gli schemi tipo ad esempio mandare qualcuno contro il portiere disturbarlo così appena ne ho la possibilità ve ne faccio vedere uno mi sa che è nella partita con la neve perché ah giusto ho anche visto dei quindi quando uno fa fallo un avversario fa fallo all'altro si vede tipo una sorta di rissa però non è una reale rissa ah non ha fatto la finita strano si vede una specie di rissa che fa molto ridere per qua guero 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 aaaah non ci arriva bello questo visto c'è anche che si è abbassato e ha guero che ha saltato bene finita la prima partita termina andiamo a giocarne una qua ogni volta la stessa storia si andiamo a giocarne una con la neve e vediamo la differenza facciamo Boca Juniors che non l'ho ancora mai fatto contro il Liverpool ancora blu e giallo così rimaniamo neve ok poi gestione squadra un'altra cosa che voglio far vedere ad esempio se io vado in istruzioni e clicco su Gigliotti io posso cambiare il pressing in difesa se pressare i difensori e intercettare le linee di passaggio gli metto intercetta le linee di passaggio poi posso cambiare anche se farlo giocare largo o farlo rimanere centrale si può scegliere tante cose e poi anche gli inserimenti offensivi se farli ad esempio alle spalle dei difensori oppure serve per far salire la squadra queste qua sono cose che si possono modificare ovviamente per tutti i giocatori in base al ruolo cambiano tipo il COC avrà entra in area per il cross o resta limite per il cross oppure può svariare nella posizione eccetera eccetera il difensore centrale invece può decidere se farlo giocare come attaccante partecipare all'attacco o resta dietro quando sei in fase offensiva per il portiere non si può fare niente ad esempio il terzino se vogliamo farlo sovrapporre o no queste cose secondo me sono piccole cose che però c'entrano ok c'entrano con minghie tutto bianco però sapete qual è il problema? è che noi abbiamo un pallone bianco ed essendo l'unico pallone non si può cambiare quindi ci dobbiamo accontentare di questo qua comunque si è molto utile quella cosa delle tattiche le tattiche mi ha fatto fare la giravolta incredibile avete visto Johnson che se l'è presa facendo no no e poi è mandato in sua in sua come si dice che si lamenta con l'arbitro ovviamente mette le mani in testa quindi c'è proprio si vede questa emotività che hanno i giocatori poi anche il computer quando ogni palla ferma se può se possono ovvero che se te non sei vicino la passano al giocatore più vicino a loro mentre qua Sterling si è mangiato un gol e poi guardate sono abbastanza intelligenti da ad andare a intercettare palla incontro difensori già nel primo passaggio del portiere nel rinvio ricordo il gioco di difficoltà esperto vedete che la neve occupa più o meno tutto il campo e per ora mi è sembrato non so se è cambiato qualcosa dall'inizio però mi sembra di no nel senso che c'è solo la neve designata per terra per il resto sembra tutto ok che bella polla mamma mia che piedacci guardate che il portiere indica già tutte queste scene ho notato l'intelligenza io sono andato a sinistra e l'ho passato a destra finisce quel primo tempo poi non so se nelle altre partite c'erano sempre due allenatori per la panchina in piedi o meglio mi è sembrato così mentre pensando al deterioramento la neve sembra sempre quella disegnata lì per terra anzi no di qua ce n'è di più guarda quanta ce n'è di qua sembra il campo di Galatasaray Juventus dell'anno scorso non so che vincita non so che vincita mamma mia che parata ma vediamo se posso fare una cosa posso fare selezionato no si ok vediamo ok vi faccio lo faccio solo per farvi vedere il coso dei calci d'angolo guardate eh in basso sin sopra Gerrard c'è scritto usa schemi su calcio piazzato se io prima la freccia giù mi dice corri verso il secondo palo disturbo il portiere corri verso il secondo io faccio disturbo il portiere e vedete che i giocatori vanno vicino al portiere così si si crea il buco per l'inserimento da dietro e così via adesso appena la butto fuori oh quasi gol torniamo nel Boca Juniors era solo per farvi vedere come si faceva ah e poi anche un'altra cosa già che ci siamo nella formazione se si fa il tasto quadrato o x in base a dove siete potete muovere il giocatore l'ho ucciso rigore di nuovo ricordate che si lamentano tutti è espulso addirittura incredibile è giustamente mi sa però io devo toglierlo perché sennò cosa faccio togliamo costa un difensore centrale lo troviamo in burdisso ok siamo pronti Gerard sul dischetto del rigore tutto è pronto manca solo il fisco dell'albitro Gerard contro Orion butto a destra ha la mia destra ovviamente e infatti mi ha fatto gol ottimo come vedete in alto a sinistra super boc cioè il Boca Juniors pensate male c'è il cartellino rosso per far vedere che siamo un in meno perfetto direi adesso alzo un po' a ultra offensiva mettiamo vediamo cosa succede angolo perfetto così facciamo uno schema perché come sapete come vi ho spiegato in un altro video si possono anche cambiare i difensori i giocatori così però noi vogliamo fare lo schema corri al limite dell'aria cosa mi fa? vanno tutti al limite giusto? mamma mia quasi e come avete potuto vedere Gerard quando io chiamo lo schema lui alza la mano come a chiamarlo sul serio Gerard no Moki era a batter l'angolo prima era Gerard che riso sulla fascia crossano indietro e comunque sul deterioramento io credo che il gioco sia sempre lo stesso più o meno cioè non è che la palla rifà tra altri rimbalzi o il meglio per ora non ho ancora visto poi magari giocare fino al centoventesimo cambia anche la cosa però nei novanta minuti intanto hanno ucciso un altro nei novanta minuti ne cambia poco come avete potuto vedere come potete vedere voi stessi adesso mamma mia c'è infortunato Gago come potete vedere c'era cosa dell'infortunio questa partita sarà persa è già il novantacinquesimo ma comunque a noi serviva giusto per vedere il deterioramento del campo finisce qua ma l'importante era vedere il deterioramento del campo come avete potuto vedere in questo video con queste due partite arriverà un altro video con tutte le partite delle altre squadre ovvero Napoli Borussia Dortmund Barcellona eccetera eccetera e aspetta non chiedete il video perché adesso vi farò vedere le condizioni che ho segnato e mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto iscrivetevi nei commenti cosa ne pensate di FIFA 15 e se lo comprerete anche voi per Ted Adello è tutto per Battlefield Games ciao a mellody where I belong in this life ciao